ciao perché i clienti le persone sono la cosa più importante è molto semplice perché se tu tratti bene una persona tratti bene un cliente soddisfi le sue esigenze non quelle che in quel momento fanno comodo a te sicuramente la persona si ricorderà di quello che hai fatto per lui e potrai sicuramente contattarlo in futuro e tornare da lui e vendergli un altro prodotto non è detto che per forza continuerai a lavorare sempre per la stessa azienda o che venderai sempre il solito prodotto magari farai della consulenza o delle vendite per un altro settore però se hai trattato bene una persona sicuramente quella persona si ricorderà di te e sicuramente potrà continuare a comprare da te ti faccio un esempio oggi sono stato da un mio cliente che seguo da circa 11 anni aveva avuto un piccolo problema che non dipendeva dalla nostra società o da me sono andato da lui sono venuto incontro l'ho capito ho sistemato la questione e quindi abbiamo dimezzato la nostra fattura di consulenza lui ha apprezzato tantissimo e sicuramente ha continuato a avere un cliente felice sul quale posso sicuramente tornare e vendere e ampliare i nostri prodotti quindi ricordati sempre che nel trattare con un cliente veramente lui è la cosa più importante non pensare alla provvisione che ne puoi ricavare in quel momento adesso ricordati del futuro se lo tratti bene la persona si fiderà di te e sicuramente continuerà a acquistare da te i tuoi prodotti e gli potrai vendere altre cose e ti darà delle referenze o delle segnalazioni e questo creerà per te il tuo fatturato futuro ricordato sempre i clienti e le persone sono la cosa più importante in bocca al lupo